Sono vent'anni di gare e vent'anni insieme alla AGV e vent'anni anche dal mio primo campionato del mondo quindi per celebrare questa meravigliosa vittoria abbiamo deciso di replicare il casco che indossavo nel lontano 97 e quando sono diventato campione del mondo per la prima volta con la 125 ed eccolo qua che è bellissimo, vent'anni fa avevo già un casco così quindi ero avvantissimo e sono sono onorato anche perché insieme a AGV ho tanti ricordi tante vittorie indimenticabili e quindi questo mi sembrava il miglior il miglior modo adesso lo potete prendere anche voi